hai fatto la slide prima che tu avevi paura di una settata quindi non hai fatto la slide poi hai fatto la slide e hai preso tutta la slide non gli è salita la slide se te l'hai fatto un po' delle due donne tutte le 5 case sicuramente questo video è bello hai bisogno di 3 2 di 4 di 2 hai fatto così hai fatto una attiva il fatto va bene tu quando ti vedi te lo conto non c'è stavolta ma chi vuoi giocare con il romanzo stai guardando che la 17 vieni a collo con quel romanzo sai ci sei razzino ma non so ma non c'è è è è è è è Menovo! No, ma non va niente! Tu vuole la regalata! Tu vuole la regalata, ma tutto a bici! Oh gelatino, tu vuole la regalata! Oh gelatino, per te regalata pure la bici! La pezza è di penno via! Mi ha fatto in fangola un tolto a per nè! Sì, sì. Ci che sale, sì! Vabbè, sì! Ma ora no! Picio, vai, non do l'anfizzo e poi per te sei! Ho fatto un'altra volta quando viene rimosso, dobbiamo rimoire la G5 Crystal Deck. Non solo te lo ha fruggiato la tena! Con un gammaggio di me, compadre! Intanto non sto giocando, mi metto a capo il tempo! Se io sto aperto, che rimuovo? A me non lo so giù la palla, almeno! Ma io lo faccio a capire! Allora, metto a capo, se non la ricorda! Ma... Ci portate a me, perché no! No! Tutti insieme! Ma c'è stata una grande necessità di 53! Mi porto! 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 Super combo con Damatza! Non tu, tu! Sta fatto parpunti con il codice Necroface! C'era! Ah, è stella per capelli! Mamma mia? E' stageremo! E' stageremo! E' la merda! Aspetta, posto Gapagas e combattere contro Primostro! Prima volta del damage viene Primostro Copan! Solamente la prima volta! Lui si pompa di 100 per ogni Primostro Copan! Ma no! Ma no! Ma no! C'è il nuovo, con l'extra, con lo spartano! E' un nuovo senza... Poi quando questo è incandato in realtà L'altro può indruggere... E' un nuovo sogno a Milano! Questa che è stata un cosmo molto bene! Non lo metto! 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 C'è la carta!!! Lo sconto io non lo metto! Se la cosa tu non mi inforano così... Ma che buona! Ah, scusa! Attivati dalla palla! Devo attivare la trapposta No, questa è più forte Questa, sì, questa Guarda, non lo può già essere molto forte Non è decida No, è perché era di sotto Eh, è di sotto dai pochi Il mangiatore, come si chiama? Il mangiatore di qualche colpo? Simone, il mangiatore di cazzi Finca cazzi così? Non c'è 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 Dice, quando? Sì Poi dice, perché una volta è un casino nemmeno poco La trappola era anche nel mio turno 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 La prossima è la prossima e la prossima è la prossima e ci iniziamo a stoppare per poi dipendere lo secondo.